Quarto Giaro sembra il Bronx ma non è così, sono moltissime le associazioni che gravitano intorno al quartiere che con uno sforzo straordinario sono impegnate quotidianamente sul territorio. Una rete forte e importante per questo quartiere costruito nel secondo dopoguerra con una grande immigrazione da Sud Italia verso la grande Milano industriale. Un'area perfetta per soddisfare il grande incremento demografico della città in quegli anni. Quarto Giaro, come la vediamo oggi, nasce negli anni 50 con la realizzazione delle prime case popolari ampliate via via negli anni 60 e 70. Un quartiere dormitorio che fu costretto ad aspettare molti anni prima di avere servizi e negozi. Con gli anni 90 arrivò anche la presenza di extracomunitari, pochi se paragonati ad altre aree della città. Gente normale nella maggior parte dei casi che lavora duramente vive in quest'angolo di Milano. Oggi il quartiere è sotto shock, la malavita è presente da anni, nessuno lo nega, ma da anni non si registravano crimini e omicidi così eclatanti da prima pagina. Un'atmosfera sospesa regna adesso su Quarto Giaro dopo la morte dei Tatone. Un delitto che sa di regolamento di conti nei confronti di una famiglia potente che secondo gli inquirenti governava una buona fetta del traffico di sostanze stupefacenti e degli affari in nero a Quarto Giaro. Il questore Savina però smentisce quest'ipotesi. Omicidi che maturano in un contesto di degrado, in una ex periferia di Milano dove l'amministrazione comunale, più amministrazioni comunali hanno fatto dei grossi investimenti per ricucire il tessuto sociale, ma viene ancora considerata una periferia degradata, più in un contesto di un piccolo contrasto in cui sono nati questi delitti. Grazie. 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 Grazie.